Il mercato della terra della biodiversità a San Giorgio Canavese è anche una manifestazione didattica per i bambini, ne parliamo con la dirigente scolastica. Noi siamo qui al mercato come tutti gli anni, quest'anno indigena perché come scuola cerchiamo di incentivare la consapevolezza della propria identità e delle proprie radici ma con una connotazione di apertura, di accoglienza e questi momenti sono sicuramente significativi per sviluppare competenze in questo senso per i ragazzi. Anche perché ci sono diverse eccellenze produttori gastronomici, c'è la questione degli alimenti biologici. Assolutamente, abbiamo fatto sia lo scorso anno sia quest'anno dei percorsi con i produttori a scuola in cui hanno spiegato queste filiere di pregio che i ragazzi imparano a conoscere e portano anche nelle loro famiglie, sicuramente questo è importante. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS